Oggi vi presento l'albo illustrato Nel giardino del corvo Tobia di L. Leslie Brooke, edito da Pulce Edizioni. Forza, coraggio, chiunque tu sia, vieni nel regno del corvo Tobia. Nel suo giardino succede di tutto, col tempo bello, col tempo brutto. Unisciti presto alla compagnia, ci sono tanti amici insieme a Tobia. Un classico del 1903 che continua a far ridere e meravigliare i bambini e le bambine del mondo. Questo albo illustrato è Nel giardino del corvo Tobia di L. Leslie Brooke, edito da Pulce Edizioni.